Quello che noi crediamo è soprattutto che questo pallone possa servire in quel futuro che veniva prospettato, cioè una volta che saranno qua un piccolo futuro potrebbe essere proprio quello dell'integrazione attraverso lo sport, perché lo sport è un veicolo che non ha bisogno di linguaggio, il che facilita tantissimo l'inserimento, questo è indubbio. Però quello che ci tenevo a raccontare e a dire su quella che è la nostra voglia e esperienza e quella che vorremmo anche allargare è il percorso sull'accoglienza e infatti stiamo già pensando a una nuova squadra di calcetto che dovrebbe partire da settembre in cui si stanno trovando i ragazzi a proposito di sporcarsi le mani e già questa sera un ragazzo dei rifugiati che è venuto a trovarci ha iniziato il percorso con noi per insegnarci. La cosa meravigliosa sarebbe riuscire ad arrivare anche a fare delle giovanili per avere un percorso in cui si riuscirà a creare anche una formazione e un'idea di aiuto e possibilità di riscatto. Il problema è che molto spesso, e l'avvocato prima l'ha detto, ma sullo sport è incredibile quanti siano i vincoli da un punto di vista legislativo per le persone che vogliono giocare a bassissimo livello quando poi sappiamo che a alto livello invece si trovano i nonni, gli zii, i cugini di quarto grado per trovargli un passaporto e farli giocare. Però, ripeto, quello che ci interessava è l'idea del riscatto, cioè della possibilità che ci hanno queste persone di trovare un mezzo per esserci. Perché? Perché quando vediamo le persone che fanno sport, ormai a distanza di un secolo, uno le parole di De Coubertin sul fatto di partecipare, l'importante è partecipare, lo puoi interpretare come vuole. Ecco, a noi non interessa l'idea un po' depressiva del piccolino che partecipa, arriva ultimo e punto. La cosa interessante dell'importanza di partecipare è il fatto di partecipare, cioè di provare a vincere, del riscatto. E queste persone che arrivano da dei paesi disposti a rischiare la vita, quando qua a casa nostra si continua a dire di ragazzi di 18 anni, i bamboccioni, anche più grandi, che stanno davanti alla play, che stanno a casa, questi a 17 anni sono disposti a lasciare tutto, a rischiare la vita, invece che essere presi come modello di coraggio, come esempio, diventano invece il pericolo. E questa è una direttante contraddizione e paradosse che incontriamo. Però ecco, noi come squadra, come polisportiva, siamo davvero aperti a tutti quelli che vorranno contribuire e dare una possibilità di inserirsi, di integrarsi alle persone per riuscire a fare un percorso insieme, che speriamo sia quello positivo che ci auguriamo e che in questi anni lo è stato. Grazie a tutti.